È il Natale migliore degli ultimi otto anni, ma secondo la Confesercenti di Catania è stato ancora un Natale in chiaroscuro. La ripresa economica che tutti attendevano, infatti, non è ancora avvenuta. In crescita il settore dell'elettronica, dell'informatica e dei giocattoli. Soffre ancora l'abbigliamento con i negozianti del centro storico che lamentano i soliti problemi. Pochi parcheggi, pochi controlli nella corretta applicazione dei saldi e la consueta migrazione verso i centri commerciali. La richiesta di commercianti e consumatori, secondo le stime di Adiconsum, Ragusa, Siracusa, è quella di anticipare i saldi. La normativa che regola le date e le procedure obsolete, da diversi anni l'Associazione lo ribadisce e chiede una riforma. Quello che serve è liberalizzare anche le date dei saldi o trovare metodi alternativi che possano coniugare gli interessi dei commercianti con quelli dei consumatori. Per quanto riguarda gli acquisti, a fare ancora una volta la parte del leone è il settore alimentare. A conferma del fatto che al tradizionale cenone i catanesi non intendono rinunciare. Anche quest'anno prevale la scelta di prodotti tipici locali e in particolare di panettoni e pandoro.